Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati con il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Fano TV, ovvero sia l'appuntamento con la carta stampata Occhio ai giornali 7.30 puntualmente tutte le mattine vi fa vedere, vi mostra i titoli principali dei giornali, dei quotidiani in edizione locale, il resto del Carlino e Corriere Adriatico che troverete naturalmente in edicola e noi lo facciamo non prima però di aver visto l'almanacco del giorno e poi le previsioni del tempo quindi guardiamo il santo di oggi, sabato 26 agosto, Sant'Alessandro di Bergamo, martire, il sole è sorto alle 6.24 e tramonterà alle 19.55 giornate sempre più corte, ormai siamo a fine agosto, vediamo in questo ultimo scampolo d'estate che cosa ci riserva per questo fine settimana il meteo, vedete le previsioni per oggi della protezione civile ci danno un cielo poco o irregolarmente nuvoloso per il transito di qualche nuvolosità medio alta, nessuna precipitazione però le temperature in lieve aumento nei minimi senza variazioni invece le massime regime di brezza per i venti e mare quasi calmo per domani, domenica stessa cosa, sereno poco nuvoloso, velature nel pomeriggio, nessuna precipitazione, temperature in aumento venti di brezza e mare quasi calmo lunedì invece cambia un po' per lo meno sui rilievi e sui rilievi appunto all'interno della regione sereno poco nuvoloso però sviluppo di nuvolosità cumuliforme sui rilievi nelle ore del pomeriggio possibili precipitazioni isolate però sempre sui rilievi, le temperature sono in lieve aumento nei minimi mare poco mosso e venti di brezza per il restante periodo della settimana tempo stabile e soleggiato ad eccezione di una lieve instabilità però nella giornata di martedì quindi questa è la prospettiva per il tempo quindi tutto sommato un altro fine settimana di bel tempo di mare o di quello che volete e ora guardiamo i giornali vi porto nelle pagine del resto del Carlino l'apertura è per con fotonotizia per un gruppo di ragazzi il viaggio di Callum un inglese di 20 anni che ha fatto tappa a Pesaro dopo aver visitato 23 nazioni suo fratello morto nel 2008 gli disse aiuta gli altri e lui raccoglie fondi a favore dei malati di cancro come lo fa? Lo fa con questo mezzo, un aperto, un tuk tuk come lo chiamano all'estero un tre ruote insomma con questo mezzo alternativo vedete scoperto insieme ad altri ragazzi che lo hanno accolto salvo il mondo col tuk tuk e poi di spalla altre notizie follie di la cronaca, follia affano sale sul terrazzo e minaccia di suicidarsi e poi vaccini nel caos, le proteste a scuola per troppo lavoro e per controlli lo vedremo nelle pagine interne, questo articolo che riguarda chi ha frequentato per necessità questi giorni gli ambulatori delle vaccinazioni, gli ambulatori vaccinali avrà visto un'affluenza superiore alla norma, al dovuto, questo per il decreto Lorenzini allora vedete nel Carlino si parla di questo, docenti e personale Atas e Caos Vaccini anche loro devono autocertificarsi, il ministero chiede informazioni sullo stato vaccinale salgono le proteste, CGL, Tuscia e Sanzini siamo già oberati da altre procedure sarà inevitabile arrivare alla mobilitazione per denunciare la situazione che si è venuta a creare, il problema si pone dalla prima elementare in poi insegnanti, segretari e bedelli vivono l'imposizione come una molestia burocratica nell'articolo poi troverete tutto l'escursus di questo provvedimento e anche altri dei sindacati come la Cisile, Cristiana, Boccioletti dicono che è una molla di lavoro in più per gli amministrativi che non sono in grado di affrontare in tempi così ristretti come questi la situazione poi la regione contatta le famiglie che devono ancora provvedere partono le raccomandate, lo avete sentito anche ieri per la voce del dottor Agostini partono le raccomandate, il suo figlio non ha fatto la vaccinazione c'è un modulo, c'è un modulo che potete anche scaricare online sul setto del ministero è un'autocertificazione, si accetta la vaccinazione e poi la si programma l'articolo che parla del ragazzo del 23enne inglese in giro per il mondo eccolo qua come chiese mio fratello in punto di morte gli disse aiuta gli altri e lui lo ha fatto dal 2008 a un'associazione che raccoglie fondi per i malati ha fatto anche tappa a Pesaro con il suo tuk tuk le vedete le foto, foto molto suggestive di questo suo percorso la promessa fatta appunto a lui gli dissi che avrei vissuto due vite la mia e la sua per fare del bene agli altri beh, tanti complimenti e in bocca al lupo per questa bellissima avventura di questo ragazzo e poi ve lo facciamo rivedere sono riportate nelle pagine del Carlino ma anche in quelle del Corriere Adriatico le truffe agli anziani questa non si era ancora sentita ve la faccio vedere che cosa gli hanno detto? metta orologio e soldi nel frigo ecco qua anziché frutta fresca e latte metta gli orologi e i suoi averi nel frigo l'anziano ahimè ci casca e gli rubano tutto una truffa che è avvenuta in via Rosselli in un'altra invece sono stati spillati ben mille euro e poi furti, intrusioni notturne a muraglia mentre la gente dormiva insomma la cronaca e i malviventi non dormono mai e non vanno mai in vacanza arrestato per ricettazione dormiva in strada con tre cellulari rubati i carabinieri lo svegliano lo perquisiscono e gli scoprono questi tre cellulari senza sim card e quindi insomma sospetti i controlli hanno evidenziato che erano tutti e tre rubati è stato portato naturalmente a Villa Fastigi in carcere la pagina di Fano del resto del Carlino parla del fatto di cronaca avete sentito anche ieri la vuole salvare ma lei insomma per tutta risposta e per tutta gratitudine gli morde un braccio eccola qua l'intervista parla appunto il malcapitato che dice volevo salvarla dal suicidio ma all'ospedale ci sono finito io parla nelle pagine del Carlino il 24enne no scusate il ragazzo che il moratore ha aggredito a morsi e a pugni da una 24enne che è quella che voleva suicidarsi mi ha azzannato il braccio e non lo lasciava più credevo di essere credevo avesse strappato anche la canna poi sono arrivati i poliziotti il 118 per un TSO un ricovero coatto della donna l'altra pagina del resto del Carlino parla del patto tra Fano e Pesaro a parlare è un ex sindaco Gustavo Mazzoni che dice il patto tra Fano e Pesaro è troppo sbilanciato nell'intervista spiega spiega il suo pensiero e poi di spalle si ritorna a parlare del canale Albani e dell'agronomo Giuseppe Curina che fu insomma fu protagonista qualche settimana fa per essere stato indicato come colui che aveva immesso irregolarmente nel canale Albani gli anatidi i cini eccetera insomma lui adesso si sfoga perché gli hanno anche impedito di accedere al laghetto uno sfogo di Giuseppe Curina che aveva creato così questa zona così attrattiva così bella per tanti passanti tante persone che ci invidiavano questa piccola fauna verde oasi verde nel centro di Fano adesso con la siccità non c'è più niente e insomma arrivano arrivano un po' le conseguenze e questa è una andiamo anche a Fossombrone con il resto del Carlino la polemica per alcune decisioni del comune parla il sindaco di Fossombrone Bonci che dice noi non celebriamo il fascismo esponiamo documenti storici anche dei partigiani risponde il sindaco Bonci sulla mostra contestata dall'Associazione Nazionale Partigiani Italiani alcune precisazioni si possono leggere lettere anche di chi ha sofferto la tragedia nei lager nazisti e poi in basso ad Acqualagna un incidente stradale un rumeno in località Fangacci è stato soccorso dalle ambulanze si schianta contro un pozzetto grave un 35 vedete la foto dello schianto e come è stata ridotta la sua auto nell'urto cambiamo testata andiamo nel Corriere Adriatico apertura tutta diversa per il Corriere Anconetano fotonotizia dedicata al Festival dell'Unità che è stato aperto dal Ministro Martino lo vedete qui eccolo qui insieme ai protagonisti di questa edizione del Festival dell'Unità e poi nuova scuola si va alla gara siamo appeso giù i ruderi poi giù i ruderi poi il cantiere e in alto un lancio per il calcio e il Fano Menegatti la D dice il Fano è pronto ma contro il Bassano sarà dura si parla già di partite e di scontri folla nei viali della fiera presidati tutti gli accessi siamo a Fano ieri è partita la fiera di San Bartolomeo naturalmente la questione sicurezza è importante come per tutte le manifestazioni all'aperto dove c'è tanta gente nuova scuola si va alla gara giù i ruderi e poi il cantiere qui tutto l'escursus del titolo che avete visto in prima pagina siamo in via la marmora un bando che si baserà sull'offerta naturalmente più vantaggiosa resta il nodo della sede degli scout ancora anche qui nelle pagine come vi avevo annunciato prima del Corriere Adriatico un focus sui furti agli anziani e vedete qui tecnici finti avvocati di tutto raggirano pensionati e anziani che loro malgrado si fidano di queste persone anche furti addirittura nelle case è sparito un televisore da 40 pollici e andiamo a Urbino con il Corriere Adriatico allarme di cittadinanza attiva per la sanità si parla di sanità l'ospedale non ce la fa più nel mirino nomine e razionalizzazioni la rete non funziona e mancano i primari cittadinanza attiva alza un po' il tiro su questa su questo aspetto dell'ospedale di Urbino e poi in basso una notizia di stampo sportivo si inaugura il nuovo campo il sindaco invita tutti taglio del nastro a Varea Gambini polo d'eccellenza orgoglio per tutta la città Gambini il sindaco di Urbino andiamo nella pagina di Fano del Corriere Adriatico che appunto riprende la notizia di Beppe Curina già diffidato dal comune l'Enel gli serra pure il cancello l'amarezza di Curina che portò gli annati nel canale Albani ora un luogo di desolazione Giuseppe ecco lo vedete qui con il cignoniero il cignoniero che immise qualche tempo fa nel 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 canale insomma quindi mancava l'autorizzazione insomma nell'articolo di Amaduzzi troverete gli aspetti di questo di di questo risvolto un po' amaro ma la condizione del canale Albania è sotto gli occhi di tutti la potete verificare voi stessi andate a vedere che cosa che cosa è tra siccità e moria di pesci e di animali è veramente desolante lo spettacolo che si che si presenta la cronaca anche questa presente nelle pagine del Corri Adriatico nello specifico la vicenda della donna che della ragazza che ha tentato di suicidarsi in preda ad alcol e droga morde un passante e picchia i poliziotti l'uomo l'ha trattenuta sul ponte prima del lancio però insomma gli è andata decisamente male pensando di fare qualcosa di buono poi insomma la donna gli si è rivoltata contro in preda appunto al mix di alcol e droga nella Val Cesano cultura fa il pieno la cultura fa il pieno di turisti arte e storia animano l'estate siamo a Mondolfo dove la cultura ha segnato il passo di questa estate alla Abbazia di San Gervasio verrà l'emissione di un francobolo il 15 settembre parla Enrico Sora il consigliere comunale di Mondolfo quindi vedete qui una foto anche della mostra l'arte della guerra al tempo di Leonardo e poi a piedi di pagina il comune ora cerca cittadini competenti siamo a terre roveresche otto posti disponibili nelle commissioni consigliari assegnati in base alla curricula e quindi questo è per quanto riguarda l'interno andiamo a vedere l'ultima pagina che è quella di Senigallia dove fra qualche giorno parte anche lì la fiera dopo quella di Fano Senigallia a partire con la fiera fiera campionare e anche qui insomma come avviene a Fano in questi giorni con le disposizioni della prefettura un centro storico per loro blindato perché la loro fiera si svolge quasi interamente nel centro storico per la fiera naturalmente in sicurezza bancarelle al posto delle auto quattro giorni di shopping e alta vigilanza vedete una delle classiche misure più viste riviste i blocchi di cemento oppure i New Jersey quelli che magari vediamo in autostrada invece piazzati nelle vie d'accesso per evitare appunto l'intrusione di mezzi come ahimè abbiamo visto all'estero anche con camion furgoni o quello che è appunto un blocco di cemento posizionato sul fronte del corso qui siamo proprio all'ingresso del corso di Senigallia bene questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere queste erano le notizie i titoli principali presenti nei quotidiani questa mattina grazie per essere stati in nostra compagnia aver iniziato la vostra giornata assieme a noi occhio ai giornali torna puntualmente lunedì mattina alle 7.30 qui su Fano TV e naturalmente a me non resta che augurarvi un buon fine settimana e sereno a tutti voi a tutti